Una Sicilia festante oggi è chiamata e domani ad invadere Assisi in tutte le sue bellezze, in tutta la sua sagralità. Porteremo l'olio santo. Una Sicilia fatta da gente per bene, che ama il lavoro, che vuole uscire dai temi della disoccupazione, della siccità, per la quale ci stiamo battendo fragorosamente a volte sotto il profilo istituzionale. Una Sicilia che accoglie, una Sicilia che aiuta chi sta male, i deboli. Questa è la Sicilia che portiamo ad Assisi e della quale siamo orgogliosi.